E' stato ricoverato in prognosi riservata un ragazzino di 13 anni che lunedì mattina a Padova è stato investito da un auto. Il ragazzino era appena sceso da un autobus e stava andando a scuola. L'incidente è avvenuto a Ponte di Brenta, lungo via San Marco. Le condizioni sono state giudicate gravi. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto e poi lo hanno trasferito in azienda ospedaliera a Padova. Sul posto la polizia locale che ha eseguito i rilievi. La dinamica dell'incidente è al vaglio in fase di ricostruzione. La conducente che si trovava al volante della macchina se lo sarebbe trovato davanti all'improvviso e non sarebbe riuscita ad evitare l'impatto. La donna è rimasta sotto shock.